Gavino Murgia Trio in concerto, domenica 8 giugno alle 21 all'Hotel Majestic di Verbania. Gavino Murgia fa parte di quella ristretta cerchi di autentici esploratori del suono che mantengono viva la memoria storica e la tradizione. All'Hotel Majestic di Verbania, domenica 8 giugno, concerto di beneficenza per il Bhutan, l'ultima Shangri-La. Il ricavato servirà a finanziare un progetto musicale Italia Bhutan. Gavino Murgia